Ore 12 e 41 Ore 12 e 41 Ore 17 e 55 Colonna continua, ora la geometria spazio-temporale, ora persa, sabbia del tempo nelle pressibili ruote e cronos. Foto finish dell'ultimo passo, Kong, Strater, colonna continua di nanosecondi, circolare quadrante, nadir, sotto universo, verso, sul precipizio delle otto e un quarto, verticale meridiana, umbo azzurro all'angolo del tempo, radio sveglia digitale e rintocco del pendolo zoppo, Marca tempo, misura e mistura di minuti primi e secondi, tempo del silenzio e del vuoto, cronografo in doppia cassa, ombra dell'Argentino in anticipo sui tempi, ed orario sballato ferroviario, 7 e 15, 8 e 20, 19 e 50. Ombra dell'Argentino in doppia cassa, ombra dell'Argentino in doppia cassa, ombra dell'Argentino in doppia cassa. Grazie per la visione!